Allora, buongiorno a tutti. La lezione di oggi sarà incentrata su un nuovo argomento che riguarda i thread in Java. Allora, per quanto riguarda i thread non saranno oggetto della parte di esame che riguarda la programmazione, è possibile che ci sia qualche domanda più astratta di teoria, ma molto di alto livello. Perché vi parlo di thread? Perché sostanzialmente sono uno strumento molto diffuso e sono utili anche per capire, ad esempio, come funziona la parte di interfaccia grafica in cui i thread giocano un ruolo importantissimo. Inoltre è una conoscenza fondamentale da possedere perché molto spesso potrebbe capitarvi di dover andare a programmare utilizzando dei thread. Quindi è una lezione abbastanza un po' a se stante. Non ci saranno questo tipo di esercizi nella parte di programmazione, anche perché quello che vi dico è esclusivamente una sintesi. Manca ovviamente una parte di pratica significativa perché i thread sono molto complicati da utilizzare. Che cosa sono i thread? Allora, sostanzialmente i thread sono un meccanismo che permette di andare a gestire quella che è la concorrenza, ovvero l'esecuzione contemporanea di più istruzioni. Un thread, che in inglese significa grosso modo filo, è il filo di esecuzione e contemporaneamente il nostro computer è in grado di seguire più fili di esecuzione. Più thread ovviamente sono distinti in base a che cosa stanno eseguendo, ma hanno un insieme di elementi in comune. Ad esempio hanno quello che si chiama uno stato condiviso. Possono avere delle variabili, degli attributi, dei file che sono utilizzati in comune. Quindi, quando noi abbiamo la necessità di andare a eseguire più operazioni in parallelo, andremo a definire più thread. a cosa servono i thread? Beh, sostanzialmente sono utilizzate per tanti motivi. Allora, a livello diciamo di sistema operativo, ogni volta che voi lanciate un'applicazione, il sistema operativo crea un thread che andrà a eseguire le istruzioni di quella applicazione. Poi, ovviamente, all'interno dell'applicazione sarà possibile definire più thread aggiuntivi. A cosa servono questi thread aggiuntivi? Allora, se immaginiamo di avere applicazioni scientifiche di calcolo, quindi machine learning piuttosto che elaborazione di dati, molte operazioni potrebbero essere fatte in parallelo. Per cui l'idea è che se io faccio più operazioni in parallelo, riduco il tempo di esecuzione. Un altro utilizzo dei thread è quando abbiamo dei sistemi distribuiti, ovvero quando abbiamo un'applicazione, che magari è quella con cui noi interagiamo, che ha l'interfaccia utente con cui interagiamo, che ovviamente deve rispondere ai nostri input, per cui se noi andiamo a fare un clic su una voce di menu, vorremmo avere il menu che si apre. Nel frattempo, la stessa applicazione può essere in comunicazione con un server remoto. Ecco, ragionevolmente, in un'applicazione di questo tipo ci sarà un thread che è legato alla parte di interfaccia grafica e un altro thread che invece è legato alla parte di comunicazione. E, in generale, tutte le volte che noi abbiamo un'interfaccia grafica, normalmente abbiamo un thread dedicato a gestire tutte le operazioni che vengono svolte. E, in generale, quando c'è un'operazione che richiede più tempo per essere eseguita, normalmente si utilizza un thread separato. Immaginate il caso tipico, quando voi andate a fare il salvataggio di un documento di grosse dimensioni e quindi schiacciate il pulsante Save, la vostra interfaccia grafica continua a funzionare, quindi nel frattempo potete scrivere del codice, fare un copy e incolla. Un thread, in parallelo a quello principale che serve le vostre richieste grafiche, andrà a fare il salvataggio. La stessa cosa succede, e lo vedete con Eclipse, quando fate un commit, una volta che scrivete il commento e dite di fare l'operazione di commit, questa operazione va avanti per conto suo e intanto voi potete fare qualunque cosa. A un certo punto l'operazione sarà completata e quindi vi verranno aggiornate le icone. Ecco, vuol dire che c'è un thread separato che va a queste operazioni. Quindi ci sono diversi casi d'uso, questi sono forse quelli principali. A questo punto è bene distinguere due concetti importanti. Uno è quello di processo. Un processo, da un punto di vista del sistema operativo che lo lancia, è un'istanza di un'applicazione in esecuzione. Un'istanza perché in teoria io, dato un'applicazione, posso avere più istanze, quindi posso lanciare lo stesso programma più volte e in realtà ogni volta che lancio quel programma il sistema operativo andrà a definire quello che è un processo. Quando viene generato un processo, il sistema operativo gli assegna uno spazio di memoria, memoria virtuale di solito, ma non entriamo nel dettaglio, del codice che deve essere eseguito, i dati che ragionalmente vengono caricati dal programma e eventualmente altre risorse, ad esempio le connessioni a dei file, delle connessioni via socket a dei server remoti. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che il sistema operativo assegna e lascia in affidamento al processo. Il processo normalmente conterrà uno o più thread che vanno a eseguire il suo codice. Per cui un thread, che cos'è? Da un punto di vista del sistema operativo è l'entità minima a cui vengono assegnate delle risorse di tempo. Che cos'è il tempo? Beh, sostanzialmente se voi avete una CPU che esegue istruzioni una dopo l'altra e volete eseguire più programmi, che cosa fate? O li mettete uno dopo l'altro, oppure se avete tanti programmi assegnate un pezzo di tempo a un programma, poi assegnate la CPU a un altro programma e via di questo passo. Ecco, il thread è l'unità minima a cui il sistema operativo è in grado di assegnare questi intervalli di tempo. Quindi un thread andrà a eseguire un frammento di codice di un processo. E poi è anche possibile, ma non è la regola, che due thread stiano eseguendo contemporaneamente lo stesso frammento di codice. Immaginate l'esempio del calcolo scientifico ad alte prestazioni di prima. È possibile che due thread stiano contemporaneamente eseguendo le stesse operazioni, magari su dati diversi, per ovviamente velocizzare. L'aspetto importante è che i thread sostanzialmente vivono all'interno di un processo e quindi tutti i thread condividono lo stesso insieme di codice, quindi tutti i thread possono eseguire delle istruzioni che fanno parte dello stesso codice, lo stesso spazio di memoria, variabili globali, risorse, quali ad esempio file, e quindi tutti fanno riferimento a questa pool di risorse globali che sono disponibili all'interno del processo. Quindi il risultato di avere più thread all'interno di un processo è quello che normalmente si chiama multitasking, che può essere visto da due punti di vista. Dal punto di vista dell'utente è di avere l'impressione che quando vado ad eseguire un programma, effettivamente il programma faccia più cose contemporaneamente. Per cui, esempio che vi facevo prima del commit, mentre Eclipse sta facendo il commit del vostro codice, voi potete continuare a fare l'editing, eseguire il programma e fare quello che volete. Da un punto di vista dello sviluppatore, il multitasking consiste nell'andare a programmare il codice in modo che esegua più attività contemporaneamente. Ad esempio, se parliamo di interfacce grafiche, ci sarà un thread che gestisce l'interazione con l'utente e l'altro che esegue qualche operazione in background. Però sostanzialmente il risultato è lo stesso. Come avviene il multitasking? Come vi dicevo prima, il sistema operativo assegna delle porzioni di tempo di calcolo della CPU che vengono chiamate in termini tecnici slice, ai thread. Quindi i sistemi operativi moderni operano in maniera che si chiama preemptive, ovvero danno esecuzione, diritto di esecuzione a un thread, questo esegue per un certo tempo, passato quel tempo il sistema operativo toglie il diritto di esecuzione a quel thread e lo passa a un altro. È anche possibile che un thread termini l'esecuzione per propria volontà, quindi termina l'esecuzione. Oppure si blocca perché è in attesa di un input. Quindi immaginate che io abbia una lettura da file, la lettura da file, ricordate il discorso della gerarchia di memoria, è lenta e quindi il thread fa una richiesta di lettura da disco, questo richiede un certo tempo, quindi in quel momento il thread si blocca e quindi a questo punto il sistema operativo assegna le risorse di esecuzione a un altro thread che invece è pronto per essere eseguito. se noi abbiamo degli intervalli delle slice abbastanza piccole, 20 millisecondi o meno, quello che otteniamo è che effettivamente anche avendo un unico processore abbiamo quella che è un'illusione di parallelismo. Come funzionano le macchine virtuali e il sistema operativo? Normalmente all'interno di una java virtual machine ci sono dei thread, un aspetto importante è che quando abbiamo più thread che vengono eseguiti dobbiamo fare molta attenzione perché l'unica cosa che noi abbiamo come certezza è che un thread quando viene avviato inizia l'esecuzione, non abbiamo idea di come venga fatto, con che ordine vengano eseguite le istruzioni di un thread rispetto a quelle dell'altro e soprattutto se prima o poi terminerà o se si bloccherà. Quindi in generale non possiamo fare nessuna assunzione sull'ordine in cui il thread verrà mandato in esecuzione. Quindi quando noi abbiamo a che fare con i thread sappiamo che esiste un componente che si chiama scheduler che andrà a scegliere un thread a cui dare la possibilità di essere eseguito, uno più thread se abbiamo più CPU a disposizione e fa anche l'operazione inversa, ovvero se c'è un thread in esecuzione che ha concluso quello che è il suo tempo, la sua slice di esecuzione, lo schedulerà che cosa fa? lo ferma ed ha la possibilità di essere eseguito a un altro thread. In funzione del sistema operativo e di altre caratteristiche può esserci uno scheduler specifico della Java Virtual Machine oppure la Java Virtual Machine può andare a utilizzare uno scheduler che è quello del sistema operativo. In questo caso si dice che usa quelli che sono i thread nativi che è il caso più frequente. Quello che succede con le CPU moderne che hanno tanti core è che normalmente ogni core è in grado di eseguire un thread. Quindi ogni core in ogni singolo istante starà eseguendo un particolare thread. Terminato il time slice oppure quando il thread si blocca oppure quando termina la sua esecuzione perché magari termina il programma, lo schedulerà che cosa fa? Prende un altro thread e lo manda in esecuzione su quel core. L'unica garanzia è che probabilmente prima o poi il nostro thread verrà eseguito. Il punto è che non abbiamo nessuna garanzia su quello che è l'ordine con cui i thread verranno scelti. Quindi se abbiamo 10 thread potenzialmente eseguibili non sapremo quando verranno eseguiti, su quale core e in generale se saranno eseguiti. Perché magari altri passeranno sempre prima e quel thread lì resterà bloccato per sempre. E soprattutto non abbiamo nessun controllo su questi aspetti. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è scrivere il nostro codice nel miglior modo possibile in modo che comunque vada e comunque operi lo scheduler, prima o poi l'esecuzione che noi abbiamo immaginato venga eseguita. Quindi l'uso dei thread è, soprattutto se i thread interagiscono tra di loro, qualcosa di molto complesso. Quindi questa era una breve panoramica su quello che è il concetto di thread e di processo e di come funzionano gli scheduler. A questo punto iniziamo a parlare di come vengono realizzati, come possiamo andare a gestire i thread in Java. Per cui passiamo a vedere direttamente il codice. Adesso dovreste vedere bene. Come faccio a gestire i thread in Java? Allora, esiste una classe thread che permette di andare a rappresentare e gestire i thread. Quindi posso definire un thread3 uguale new thread. Quando vado a creare un thread non ho fatto nulla, ok? Quindi creo un thread in stato iniziale. A questo punto il thread è fermo, non viene attivato. Per attivarlo devo andare a scrivere t.start. Avvia l'esecuzione del thread. Finché io non faccio start, lo scheduler non prende in considerazione questo thread perché dal suo punto di vista è come se non esistesse. Nel momento in cui faccio start allora dico va bene, questo è un thread pronto per essere eseguito e quindi inizia a considerarlo quando devi andare a scegliere il prossimo thread da eseguire su uno dei core disponibili. La domanda a questo punto è che cosa esegue? Quale codice esegue questo thread? Beh, quello che possiamo fare eseguire al thread è sostanzialmente un metodo. Quindi diciamo l'esecuzione del thread inizia da un particolare metodo. Come facciamo a specificare un metodo? Beh, il metodo da eseguire come punto di partenza del thread lo possiamo andare a definire utilizzando quella che è un'interfaccia che si chiama runnable. Ok? Quindi codice da eseguire. L'interfaccia runnable è molto molto semplice e ha un unico metodo che si chiama runnable. Quindi è un'interfaccia funzionale e quindi io lo posso implementare in maniera sintetica utilizzando una lambda. Per cui qui posso andare a fare system out print ln nuovo thread e quindi quando vado a creare il thread dico che voglio eseguire il codice che specifico che passo come parametro. quindi se vado ad eseguire il tutto vedete che c'è scritto nuovo thread e qui vado a stampare invece il messaggio da quello che è il thread principale. Ovviamente come vi dicevo quando viene creato un processo e l'esecuzione di un programma java corrisponde a un nuovo processo viene definito un nuovo thread e questo thread solitamente viene chiamato il thread main. Lo possiamo andare a recuperare in questo modo. La classe thread ha un metodo che si chiama current thread che sostanzialmente mi restituisce l'oggetto thread che sta eseguendo in questo momento che sta eseguendo quell'istruzione. e a questo posso chiamare, posso chiedere get name e posso andare a stampare hello ovviamente posso fare anche la stessa cosa sull'altro thread quindi qui andare a stampare il nome del thread e poi nuovo thread hello e nuovo thread ora se io vado a eseguire questo codice un certo numero di volte vedete che può succedere che venga stampato prima main hello oppure venga stampato prima thread 0 vedete che l'ho eseguito 5 o 6 volte ok, ho rieseguito 5 o 6 volte lo stesso programma e in 5 o 6 volte almeno una abbiamo avuto questa qua è l'ultima il caso in cui il thread che ho appena creato viene eseguito prima dell'istruzione che abbiamo scritto subito qua sotto che stampa hello nelle altre esecuzioni invece veniva eseguito prima hello e poi nel frattempo veniva eseguito successivamente veniva eseguito l'altro thread quindi la cosa fondamentale da ricordare è non importa l'ordine con cui faccio la stampa se lo faccio dopo lo start questo potrebbe avvenire prima o dopo quello che vado a eseguire nel thread separato altro esempio andiamo a definire a questo punto due thread separati oltre a quello principale quindi andiamo a fare un runnable conteggio uguale vado a definire un ciclo da 1 a 20 e faccio system out println i e vado a stampare anche il nome del thread lo faccio definire prima ok name più allora due domande sulla chat è possibile specificare su quale core far eseguire il thread allora con java normale no non c'è questo controllo altra domanda le classi runnable e thread no non fanno parte di java.io ma fanno parte di java.lang perché sono classi di base vedete che non c'è nessun include quindi sono java.lang runnable e java.lang thread non sono legate all'input output perché l'uso dei thread è molto più generale può essere utilizzato sicuramente nell'input output ma è molto più generale non è specifico per quello a questo punto abbiamo definito il nostro contatore andiamo a definire un nuovo thread t1 uguale new thread per quanto riguarda il thread ovviamente c'è la possibilità di specificare oltre all'oggetto target di tipo runnable anche un nome per cui io posso specificare conteggio e poi t1 ok così abbiamo un nome un po' più compatto e poi t2 allora vi faccio notare che ho passato lo stesso oggetto runnable a entrambi i thread questo vuol dire che entrambi i thread andranno a eseguire lo stesso codice ovviamente ognuno in maniera separata ok è come se io tessi una ricetta di cucina a due di voi vi metto in parallelo su due fornelli vi do tutto il materiale e lavorate in parallelo è ovvio che la ricetta è quella unica le istruzioni ma voi lavorate separatamente ognuno con le sue risorse variabili locali ok per cui il thread t1 avrà una copia di name avrà una copia di i e quindi farà la sua evoluzione a questo punto semplicemente così non serve a nulla devo fare t1 punto start e t2 punto start faccio partire i due thread quello che ottengo vedete che in questo caso torno un attimo su t1 che parte subito arriva a 11 e poi parte t2 che fa 0 poi torna t1 che stampa altri numeri dal 12 al 16 poi arriva t2 che stampa dal 1 al 4 poi torna t1 poi arriva t2 poi torna t1 eccetera anzi fatemelo fare così metto un tab davanti al nome così vengono stampati disallineati vedete che ho t1 poi t2 vedete che tra l'altro è cambiata l'esecuzione di prima quindi arriva fino a 11 poi parte t2 da 0 a 4 poi t1 da 12 a 19 poi t2 finisce ovviamente una volta finito t1 t2 viene eseguito tranquillamente se io eseguo un'altra volta questo programma vedete che di nuovo cambia un'altra volta vedete altra esecuzione questa volta è t1 che finisce per ultimo quindi ricordatevi che l'unica cosa che è nota quando vado a parlare di thread è che normalmente un thread inizia esegue e prima o poi forse termina l'unica cosa certa in questo caso è che il thread scusate non trovo il cursore il thread inizia perché faccio t1 punto start t2 punto start ogni altra informazione non è nota per cui attenzione quando andate utilizzare i thread perché se avete delle operazioni completamente indipendenti va benissimo non vi dovete preoccupare di nulla lo scheduler fa tutto vengono eseguite le diverse operazioni ed è finita se le operazioni che devono essere fatte possono interagire tra di loro allora è un problema perché non abbiamo nessuna garanzia sull'ordine in cui vengono eseguite allora domanda quindi gli incrementi delle variabili in comune ad esempio ia vengono in ciascun thread in modo separato e ogni thread contiene i valori relativi sì esattamente riformulo in questo modo questo quello che vi ho evidenziato qua è un metodo quindi appena un thread entra in quel metodo viene creata nello stack una copia delle due variabili locali che sono in questo caso name e i quindi il thread entra crea lo spazio per mettere quelle due variabili locali e le usa successivamente quindi le variabili locali name e i su cui opera il thread t1 saranno in un'area di memoria completamente distinta rispetto alle variabili locali in cui opera il thread t2 è ovvio che se io avessi una variabile locale che metto qua invece di questa allora non è possibile perché in realtà essendo una lambda questa deve fare riferimento a un'unica a una variabile che deve essere final ma chiamiamola x uguale a 1 e vado a fare riferimento a x qui dentro ecco allora in questo caso la variabile sarebbe la stessa per cui se ho variabili locali non mi devo preoccupare ogni thread ha la sua copia se invece faccio riferimento a variabili che non sono locali per il thread allora sì iniziamo ad avere problemi di consistenza ok o interferenza tra i vari thread domanda l'esecuzione è solo apparentemente parallela allora l'esecuzione è apparentemente parallela se io ho un'unica cpu un unico core ma visto che il computer che sto usando io e diciamo molto probabilmente il computer che utilizzate voi a meno che non stiate utilizzando un MS-DOS 3.6 degli anni 80 hanno tutti più core e quindi l'esecuzione è effettivamente parallela è chiaro poi che se voi andate a creare 100 thread è ovvio che se non avete un calcolatore con 100 core molti di questi thread magari non verranno eseguiti effettivamente in parallelo ma ce ne sarà un certo numero che viene eseguito in parallelo allora esiste un metodo adesso non ricordo più il nome no scusate run time punto get run time punto available processor questo metodo ci dice quanti sono i processori quindi i core che sono in grado di eseguire un thread quindi quello è il numero massimo di thread che la vostra macchina è in grado di gestire facendo quello che è un parallelismo reale tenete conto che però i thread non sono solo del vostro programma java ma ci sono un sacco di altri programmi che vengono eseguiti in contemporanea per cui in questo momento ci sarà un thread che visualizza la telecamera un altro thread che registra lo schermo quindi se io lanciassi 12 thread in parallelo probabilmente soltanto un sottoinsieme di questi 12 disponibili sul mio pc sarebbe disponibile per java quindi se voi andate a fare un system out println sono disponibili più io li chiamo core che è il termine un po' più moderno un po' più corretto il termine processor era un po' insomma antico stiamo parlando degli anni 90 quando è stato definito quel metodo normalmente oggi si parla di core poi in realtà la cosa non è così semplice perché almeno le architetture moderne delle cpu hanno scusate hanno un certo numero di core e ogni core è in grado di eseguire due thread in parallelo quindi è la cosa ancora più complicata però chiamiamoli core per semplicità se vado ad eseguirlo sulla mia macchina io ho 12 core disponibili sui vostri pc avrete dei numeri diversi perché dipende dalla cpu che avete a disposizione allora domanda se fosse stata effettivamente parallela non avrei voluto stampare t1 e t2 alternativamente sì ma il punto è che io ho 12 core e ho se volete ve lo dico ma il numero di processi che ci sono in esecuzione in questo momento sulla mia macchina sono tantissimi ok più di 100 ma anche sui vostri pc in questo momento avete in esecuzione un sacco di processi e ovviamente ogni processo ospita un certo numero di thread per cui il numero di thread effettivamente in esecuzione e disponibili alla cpu sono centinaia quindi è ovvio che lì ogni thread va avanti e si prende un pezzettino di spazio della cpu o di un core man mano che va avanti quindi come vi dicevo prima non potete prevedere l'ordine con cui vengono fatte le cose anche se effettivamente avete due cpu o due core che eseguono il thread contemporaneamente perché magari tutte e due cercano di accedere alla memoria contemporaneamente e l'accesso alla memoria passa attraverso un canale unico e quindi prima passa uno prima passa l'altro e quindi in ogni caso ci sono dei punti in cui anche se sono eseguiti in parallelo comunque prima uno o prima l'altro devono essere eseguiti dove abbiamo definito getName allora getName torno un attimo qua allora thread punto current thread ci restituisce un oggetto di tipo thread che è il thread corrente per cui se io vado a farlo qua ho un thread main thread è uguale a thread punto getCurrentThread ok quindi se sono interessato in un certo punto a avere accesso a quello che è il thread corrente posso fare in questo modo a questo punto ogni thread ma quindi anche il t che abbiamo generato prima piuttosto che i t1 e i t2 che abbiamo messo dopo hanno un metodo che si chiama getName e restituisce il suo nome quindi a questo punto qui posso scrivere main thread punto getName qui sotto quello che ho fatto è di fare thread punto getCurrentThread punto getName e memorizzare tutto da una variabile name così è un po' più compatto e lo scrivo una volta sola allora domanda un po' più avanzata il fatto che un core possa eseguire più thread sì è vero è sostanzialmente un qualcosa che è disponibile su cpu che abbiano una tecnologia che si chiama hyperthreading sì che è una cosa abbastanza comune in buona parte dei processori moderni però non entrare in questi dettagli diciamo tecnologici se voi volete scrivere il codice multi thread non dovete sapere necessariamente come funziona una cpu sotto per cui lo stesso codice funziona se lo scrivete correttamente sia su una cpu che abbia un unico processore e quindi sia in grado di eseguire un unico thread per volta fisicamente e quindi divida il suo tempo tra un thread e l'altro sia che voi abbiate 12 o 120 thread paralleli che vengono eseguiti contemporaneamente il punto è che voi il codice dovete scriverlo in modo tale che funzioni sia su un core 2 10 o 100 anche perché non potete fare assunzioni su quanti core avrà la macchina su cui viene eseguito il vostro codice ultima domanda quindi getName è definita nella classe thread sì getName è un metodo della classe thread ora questa è se volete la vista proprio di basso livello dei thread quindi se vogliamo andare a controllare i thread sapere quali sono lanciarli ed eseguirli lo possiamo fare in questo modo esiste un altro approccio che però è stato definito in java un po' dopo se non ricordo mai da partire dalla versione 5 o 6 che invece nasconde un po' questi dettagli e si basa su un concetto diverso che è quello di esecutore che cos'è un esecutore è sostanzialmente un oggetto che è in grado di gestire dei metodi da eseguire e si occupa lui di creare i thread far eseguire al thread il il particolare metodo quindi l'oggetto runnable man mano che noi andiamo a crearli posso andare a creare quello che si chiama un executor service e executor service deve essere importato questo si trova in java utile concurrent dove ci sono le classi che permettono di andare a fare programmazione concorrente un po' più avanzata e in particolare c'è una classi che si chiama executors che offre una serie di metodi che permettono di andare a creare degli esecutori di tipo diverso vi faccio vedere più che nella documentazione una slide sintetica dove vi spiego un attimo quali sono i tipi principali di di esecutori ok la classi executor ha come vi dicevo una serie di metodi che permettono di andare a creare degli esecutori l'esecutore è un qualcosa a cui io sottometto un compito da eseguire e lui andrà a gestire in maniera assolutamente trasparente quindi molto più semplice per me thread la creazione l'avvio eventualmente il riuso di thread che già esistono i tipi principali non sono tutti ma i tipi principali di esecutori che sono previsti sono questi allora abbiamo scusatemi eccomi qua allora un new cached thread pool che sostanzialmente va a creare un esecutore che man mano che io gli dico di eseguire qualcosa quello che si chiama un task lui va a creare un thread e lo fa eseguire quindi crea thread man mano ogni volta che c'è necessità ed eventualmente riutilizza quelli che sono terminati c'è un metodo new fixed thread pool che invece va a definire un insieme di thread vado a specificare il numero e sostanzialmente quando devo andare a eseguire un task va a pescare uno di questi thread il primo che è libero e gli dice di eseguire il task c'è poi questo che è new single thread executor che sostanzialmente gestisce un unico thread e quando il thread ha terminato un task gli fa eseguire quello successivo e infine c'è quello che si chiama work stealing pool che è sostanzialmente identico a fixed thread pool solo che in questo caso non vado a specificare il numero di thread da eseguire perché quel numero di thread corrisponde al numero di processori che abbiamo visto prima e quindi va a creare un pool di thread che corrisponde al numero massimo che effettivamente la CPU è in grado di gestire e utilizza quelli e li riutilizza quando un thread è finito quindi questo permette di andare a bloccare un task se non ci sono sufficienti thread per eseguirlo e sbloccarli man mano che i thread terminano l'esecuzione come faccio a fare la sottomissione di un nuovo task ebbè quando ho un executor service di uno di quei tipi che abbiamo visto prima ho la possibilità di andare a fare un submit a cui passo che cosa il task da eseguire quindi banalmente nel caso più semplice quello che è un oggetto runnable quindi submit prende un runnable e appena c'è un thread disponibile lo lo esegue shutdown che cosa fa termina non i thread ma bensì il sistema il servizio quindi se ci sono dei thread ci sono dei task attualmente in esecuzione aspetta che termino e poi termina il nostro servizio di esecuzione il metodo shutdown now non solo termina il servizio ma cerca anche di terminare i task che sono attualmente in esecuzione quindi immaginate di voler terminare il programma fate uno shutdown now per terminare i thread e poi permettere la terminazione del servizio await termination è sostanzialmente un meccanismo che permette al thread che ha creato l'esecutore di aspettare che abbia terminato tutti i suoi task quindi io posso chiamare await termination a questo punto vuol dire che tutti i task hanno finito e a questo punto posso fare qualche altra operazione domanda perché si chiama stealing non ne ho idea perché probabilmente va a dare a disposizione una certa quantità di lavoro che è il massimo disponibile e man mano che è disponibile vado a rubare quella risorsa ma è un'ipotesi che mi è venuta in mente adesso non solo la motivazione del nome quindi rispetto a questi executor service cosa faccio? se voglio andare a utilizzare un executor service posso andare a creare un ad esempio new fixed thread pool in cui vado a mettere quattro thread o anche due e a questo punto posso fare e.submit e vado a mettere il task t1 scusate non t1 ma conteggio e poi viene sotto metto un altro un altro ancora per cui una volta che io mi sono creato il mio esecutore faccio un submit e vuol dire che questo andrà a gestirlo per cui se vado ad eseguire questo codice vedete che qui ho dei pool vedi pool 1 thread 1 qui ho l'1 qui ho il 2 poi torna l'1 poi inizia il 3 che termina qual è il vantaggio di andare a utilizzare questo tipo di struttura è che non devo sapere che ci sono i thread quindi me li dimentico non devo andare a eventualmente dare dei nomi non devo ricordarmi di fare uno start e soprattutto non devo ogni volta che devo fare un'operazione creare un nuovo thread perché ci pensa l'esecutore a creare dei nuovi thread quando è necessario in questo caso io ho un parallelismo massimo di 4 ma potrei anche avere un parallelismo più basso se voglio limitare l'uso delle risorse allora domanda noi possiamo solo gestire l'avvio di questi thread non abbiamo controllo sull'esecuzione e sulla terminazione allora tendenzialmente sull'esecuzione no nel senso che non possiamo dire chi viene eseguito prima chi viene eseguito dopo allora in realtà esiste il concetto di priorità quindi i thread a priorità più alta vengono eseguiti per primi però in generale andare a utilizzare la priorità con i thread è un qualcosa che deve essere fatto con molta attenzione però se ho tanti thread che hanno più o meno la stessa priorità che hanno esattamente la stessa priorità questi verranno eseguiti in un ordine non noto su quello assolutamente non c'è nessun controllo quello che posso fare è invece andare a terminare i thread domanda da eseguito service è possibile cambiare la priorità di un processo no nel senso che l'eseguito service ha un insieme di task che vengono eseguiti e hanno tutti ragionevolmente la stessa priorità quindi se ho bisogno di fare qualcosa ad alta priorità probabilmente devo costruirlo separatamente tutti i thread che sono gestiti da un esecutore hanno la stessa priorità in generale non vi preoccupate troppo di priorità di esecuzione perché molto spesso il caso più comune di uso dei thread è io ho tanti task da eseguire non ho necessariamente uno che ha una priorità più alta o più bassa voglio eseguirli il grosso problema non è dare la priorità il grosso problema è andare a sincronizzare in qualche modo più thread che operano sulle stesse risorse perché quello effettivamente potrebbe essere un problema ma prima di andare a vedere i problemi di esecuzione magari li accenno oggi ma ne riparleremo poi più avanti vi faccio notare che un aspetto di runnable è che allora no non c'è qua allora ve lo scrivo ve lo scrivo velocemente qua se io faccio conteggio punto run vedete il metodo run restituisce void a me potrebbe servire un thread scusate un task perché a questo punto dimentichiamoci i thread ve lo fate vedere perché quelli sono il meccanismo di base ma quello che normalmente viene utilizzato sono gli esecutori quello che potrebbe servirmi è un task che io sottometto e che però mi restituisce un risultato ok per cui se immaginiamo di avere un runnable che fa la somma uguale i uguale a 0 i minore di 100 più più i e va a sommare tutti i numeri ah scusate l'ho chiamato somma esattamente come quello ma se vado a fare questa cosa qui per me non è possibile fare un return di sum perché il metodo che sto implementando è void ok per cui per fare questo invece del metodo runnable posso utilizzare un metodo che si chiama callable come è fatto callable ha anche lui un unico metodo che si chiama call che però restituisce un oggetto di tipo t quindi è un tipo generico in questo modo abbiamo un'unica interfaccia che permette di andare a restituire qualunque tipo di oggetto a questo punto però c'è un problema se io chiamo il task questo mi restituisce il risultato ecco però il risultato nel momento in cui io chiamo avvio il task quindi faccio un submit il risultato non c'è ancora ok perché ho appena avviato ho appena sottomesso il task quindi magari il thread non è neanche ancora partito come faccio a risolvere questo problema il problema lo risolvo in questo modo vado a restituire un oggetto che si chiama future questo è un concetto abbastanza generale quindi non è presente soltanto in java ma è presente in praticamente tutti i linguaggi che utilizzano i thread e che avviano un task che produce un risultato però ovviamente il risultato all'inizio non c'è però io vorrei poter manipolare quel risultato averlo a disposizione avere un riferimento a quel risultato per cui l'idea generale è quella di restituire un oggetto di tipo future ovvero un qualcosa che in un futuro conterrà un valore è un po' simile a optional ok ma il contesto è diverso optional nel momento in cui io lo creo decido subito se c'è qualcosa dentro oppure no in un future invece inizialmente non c'è niente ma poi in un futuro prossimo quando il thread termina dentro ci sarà un valore per cui l'oggetto future ha un metodo che si chiama is done che sostanzialmente mi permette di andare a verificare se l'oggetto contenuto dentro il future quindi il risultato del task è stato prodotto oppure no se is done allora posso chiamare il metodo get per andare a recuperare l'oggetto che è stato calcolato dal mio thread dal mio task quindi in pratica cosa succede? qui vado a definire non un runnable ma un callable di integer visto che vado a restituire un integer callable ovviamente deve essere importato si trova anche lui nel package java.util.concurrent a questo punto io ho un thread che è in grado di scusate un task che è in grado di produrre qualcosa vado a usare il mio sempre esercito service di qui sopra ma potrei anche generarmi uno nuovo e quindi vado a dire e punto submit e passo il mio task che si chiama somma questo metodo mi restituisce un oggetto che è un future di integer che è il risultato dell'esecuzione del task quindi future deve essere importato anche lui sta in java util concurrent l'idea è io ho un risultato che inizialmente potrebbe non esserci ma in un prossimo futuro qualcuno andrà a fornirmi me lo fornirà ovviamente il task che ho appena sottomesso vi faccio presente che il tipo dentro future è esattamente lo stesso tipo che c'è dentro collable ok il future dovrà contenere un valore in un prossimo futuro che è quello restituito dall'oggetto collable una volta che ha terminato a questo punto while not risultato punto is done system out println in attesa ok non è il modo di comportarsi però è giusto per farvi vedere che cosa succede a questo punto se io lancio mi si è incantato tutto scusate il thread pare bloccato non so cosa ho sbagliato e quello che vado a fare dopo è system out println risultato risultato punto get e qui vado a dire risultato due punti il metodo get può lanciare un'eccezione di tipo execution exception non la intercetto quindi potrebbe esserci un qualche problema durante l'esecuzione e quindi quello lancia un'eccezione io non vado a gestirla a questo punto scusate vi commento questo ok ok un'eccezione 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 che si è Allora, non so perché non sta funzionando, però in linea di massima questo è più o meno il processo che devo andare a fare. Alla fine dobbiamo andare a ricordarci dopo aver eseguito, dopo aver utilizzato un esecutor service di terminarlo. Quello che posso fare è fare ad esempio un e.shutdown e poi vado a dire e uguale. Vado a creare uno nuovo, non so se cambia qualcosa ma non credo. Ecco, in questo caso non so come mai con l'esecutor di prima non funzionava. Allora, torno al codice e ve lo rieseguo così lo vediamo in dettaglio. Allora, qui mi fa vedere il risultato. Se ripristino quello di prima, vedete che il thread principale è in attesa, in attesa, in attesa, poi a un certo punto arriva il risultato. Ovviamente se io vado a rieseguire il codice è possibile che l'attesa sia più lunga o più breve. Se io non faccio l'esecutor, ovviamente quello che ottengo è che il metodo get sostanzialmente blocchi il thread che l'ha chiamato, in questo caso è il thread principale, quindi il thread principale resta bloccato su questa chiamata get finché il valore calcolato dal callable, quindi quello che verrà messo dentro il future, è disponibile. Allora, domanda, la cosa è un po' a sé stante, infatti, è quello che vi dicevo all'inizio, per questo non è parte poi della parte di programmazione, però i thread servono per poi andare a fare un sacco di operazioni, soprattutto per andare a capire come funziona la gestione delle interfacce grafiche. e quindi i thread per il momento vi servono sostanzialmente per capire alcune cose. L'altra cosa che potete capire in questo modo è come funzionano gli stream quando andate a specificare parallel. Quando andate a fare parallel, che cosa succede? Viene utilizzato un executor service, normalmente viene fatto un executor service di tipo stealing, per cui tutte le operazioni che vengono fatte, vengono fatte in parallelo. Quindi quando andate a mettere parallel su uno stream, automaticamente le operazioni successive, compatibilmente con quello che è possibile fare, per cui se devo fare un ordinamento, non è detto che vengano fatti in parallelo, tutto questo viene gestito tramite un esecutore. Allora, domanda, posso inserire... oggetti di tipo diverso, di tipo callable e runnable? Penso di sì, però probabilmente non ne sono certo, perché prima il problema era che avevo messo degli oggetti diversi, quindi non ve lo posso garantire, devo verificare. Normalmente però, quando vado a creare un executor, lo penso per un certo insieme di task, che quindi normalmente sono tutti più o meno dello stesso tipo. a questo punto torno un attimo su le slide per andare a... parlarvi di un altro aspetto importante, che è quello di sincronizzazione. immaginiamo il seguente scenario. Quindi, immaginiamo che ci siano due thread, che magari vengono eseguiti per conto di, o in risposta a, le richieste di due persone diverse, due utenti diversi. ad esempio, c'è un unico conto e ci sono due persone che hanno un bancomat che funziona sullo stesso conto. Quindi, che cosa avviene in questo caso? Beh, se io ho un unico oggetto della classe conto con un metodo getBalance che mi dice qual è il saldo e withdraw, che sostanzialmente va a prelevare una certa ammontare di denaro dal conto e quindi va a ridurre il saldo, è possibile che due persone contemporaneamente o due thread per conto di due persone diverse vadano contemporaneamente a accedere a lo stesso conto. Per cui, in generale, per sicurezza, cosa succede? che prima di fare un prelievo prima verifico che ci sia un saldo disponibile, quindi maggiore del prelievo che voglio fare e dopodiché faccio effettivamente il prelievo. Il punto è che è possibile che dal momento in cui ho fatto la verifica del saldo al momento in cui vado a fare il prelievo vero e proprio qualcun altro faccia delle altre operazioni. Se vi ricordate prima ogni volta che io andavo ad eseguire anche delle operazioni banali come semplicemente un conteggio l'ordine con cui venivano fatte cambiava di volta in volta. quindi se io ho due thread che contemporaneamente fanno queste due operazioni è possibile che uno e due vengano eseguiti in tanti modi diversi. Per cui magari uno fa una verifica l'altro fa la verifica e fa il prelievo e il primo fa di nuovo il prelievo però basandosi su una verifica che è stata fatta prima dell'altro prelievo. Per cui se immaginiamo di avere Stuart e Kevin che vogliono andare a prelevare dal loro conto Stuart verifica che c'è un saldo sufficiente. Prima che Stuart possa fare il prelievo arriva Kevin che verifica il saldo e trova esattamente lo stesso saldo che aveva visto Stuart. Per cui a un certo punto sia Stuart che Kevin sono convinti che ci sia un saldo sufficiente. Immaginiamo che ci sia 10 e vogliono entrambi prelevare 10. Stuart a questo punto fa il prelievo è corretto c'era 10 lui voleva prelevare 10 e quindi va avanti. fatto il prelievo Stuart arriva Kevin che cerca di fare il prelievo anche lui. Il problema è che a questo punto il saldo non è più 10 come quando aveva fatto il controllo ma bensì a questo punto sarà 0 e quindi il prelievo fa andare in rosso il conto. in termini di codice ecco quello che potremmo avere immaginiamo di avere un oggetto conto qui ho un runner che fa tanti prelievi cerca di prelevare 10 ogni volta da un conto che inizialmente è a 50 e dopo aver fatto il prelievo se il saldo del conto è minore di 0 allora si preoccupa. Vado a creare due thread Kevin e Bob che vanno ad eseguire questi multipli questi prelievi multipli e faccio partire i due thread ok? qui l'ho scritto con i thread potrei farlo esattamente allo stesso modo con gli executor a questo punto l'operazione di prelievo che è comune a entrambi i thread è questa vabbè qui ho il nome giusto per poi stampare il risultato faccio account.getbalance maggiore di amount allora se è maggiore il saldo rispetto alla maggiore uguale rispetto alla cifra che voglio prelevare benissimo qui per complicarmi la vita ho messo uno slip di 500 millisecondi e poi faccio il prelievo altrimenti se il saldo è inferiore alla somma che voglio prelevare semplicemente dico che non posso andare a prelevare a questo punto se eseguo il tutto cosa succede succede che potrò avere vari risultati prima o poi uno dei due capiterà che andrà in rosso mi vado a recuperare il codice che dovrei avere da qualche parte qua non è tanto il conto ma è questo qui vedete il codice è quello che abbiamo visto prima se vado ad eseguirlo in questo caso qualcuno ha cercato di andare a prelevare ma ha scoperto che non ce n'erano non c'era abbastanza e ovviamente se lo rieseguo avrò un esito diverso ancora quindi Bob cerca di fare due prelievi e comunque viene bloccato e nel frattempo però Kevin è andato dentro e ha prelevato e si è reso conto che in realtà ormai era andato in rosso ok due volte a questo punto qual è la strategia la strategia semplicemente è evitare che queste operazioni quindi la verifica del saldo e il prelievo possano essere eseguiti in maniera distinta quindi controllo e prelievo devono essere fatti come un'operazione atomica altrimenti come giustamente viene scritto in chat adesso quando ho dei thread ho tanti possibili scenari e il punto è che in assenza di verifiche e di controlli sono tutti ugualmente probabili quindi l'idea è quella operazione lì deve essere fatta e deve essere resa atomica quindi questo metodo make withdrawal deve essere eseguito tutt'uno senza la possibilità di essere interrotto da nessun altro e questo come posso farlo? lo posso fare andando a utilizzare una parola chiave che si chiama synchronized la parola chiave synchronized che cosa fa? sostanzialmente va a garantire che quel metodo possa essere eseguito da un unico thread per volta quindi quando un thread inizia a eseguire questo metodo gli altri thread vengono bloccati quindi il thread entra dentro verifica il saldo e fa il prelievo e poi termina a questo punto l'altro thread può entrare e fare verifica e prelievo in questo modo verifica e prelievo sono un tutt'uno sono quella che è un'operazione atomica che è indivisibile quindi nessun altro thread può entrare nel frattempo a fare operazioni ok? quindi a questo punto avendo messo synchronized se io vado ad eseguire il mio codice vedete che a un certo punto c'è un not enough nel senso che il saldo è terminato però non c'è nessuno che fa un prelievo che porti il conto a un saldo negativo perché si fermano prima in questo modo io sono relativamente tranquillo che la coppia verifica e prelievo siano atomiche un altro aspetto importante è come fare la sincronizzazione ok? perché io la sincronizzazione ve l'ho messa su questa operazione di ritiro in generale se invece di metterla qua io ve l'avessi messa sul conto quindi scusate non prima del tipo synchronized qui e synchronized qui vuol dire che un solo thread per volta può fare il prelievo e il deposito però attenzione che non è detto che la coppia di scusate anche il get balance non è detto che però la coppia di get balance e di withdraw sia non tutt'uno ognuna è separata ma comunque possono essere fatti in due momenti diversi per cui in questo caso vedete che di nuovo ho il caso in cui vado in negativo con il saldo perché in realtà l'operazione da considerare atomica è la coppia controllo e ritiro non controllo e ritiro separatamente quindi attenzione a sincronizzare non le operazioni elementari allora può essere utile perché se io ho due thread che contemporaneamente cercano di fare la sottrazione di un certo amount potrei avere un risultato anomalo ma quello che è importante è andare qua a sincronizzare l'operazione elementare quindi di controllo e poi di prelievo domanda che cosa fa thread slip 500 allora slip è un metodo statico della classe thread che sostanzialmente mette a dormire il thread per un certo periodo il valore che specifichiamo come parametro è il numero di millisecondi che il thread deve dormire questo significa che quel thread che sta facendo l'operazione di prelievo si ferma per 500 millisecondi e poi torna a essere disponibile domanda sincronizzare i processi quindi aumenta la sicurezza del codice allora attenzione sincronizzare i thread i processi possono essere sincronizzati ma sono fatti in un altro modo quindi stiamo parlando di thread sincronizzare i thread su operazioni critiche come questa sicuramente garantisce che le operazioni vengono fatte correttamente quindi non ci si possa introdurre qualcun altro la mancata di la mancata sincronizzazione allora sì può essere utilizzata per scopi malevoli però in realtà è molto più probabile che la mancanza di sincronizzazione venga sfruttata senza nessuna volontà malevola ma semplicemente perché prima o poi capita che l'ordine delle istruzioni non sia quello che avevamo in mente noi perché non abbiamo garantito ok per cui la mancata sincronizzazione più che aprire la porta a uso malevole del codice è shatteria quindi quindi non andiamo a cercare dei insomma definire a inventarci teorie del complotto quando in realtà è semplicemente una mancanza del programmatore che magari non aveva nessuna intenzione malevola per cui fa parte delle pratiche di buona programmazione quando abbiamo dei thread garantire che questi vengano gestiti correttamente e quindi ci sia un'operazione di sincronizzazione su quelle che sono le operazioni atomiche che quindi devo garantire che vengano eseguite in un tutt'uno altro esempio di thread vado a fare scusatemi faccio uno shutdown e vado a creare un altro vado a fare un runnable aggiungi a lista che è sostanzialmente un qualcosa che fa un ciclo dai a 0 a 100 e semplicemente va a prendere diciamo una linked list l uguale new linked list e semplicemente scusate non ho messo il tipo integer ovviamente e semplicemente va a fare l.add di i e se faccio e. punto submit di aggiungi a list e ne sottometto un certo numero vado a vado a stampare la dimensione della lista e poi e poi vado a stampare la lista in sé a questo punto se eseguo il tutto vi faccio notare che la dimensione della lista è 244 se se facciamo due calcoli ok come si dice in questi casi se la matematica non è un'opinione se io ho 4 thread che aggiungono ciascuno 100 elementi alla lista 4 volte 100 fa 400 lì ne abbiamo solo 244 perché? beh è ovvio perché la lista quando va a fare l'operazione di aggiunta di un nuovo elemento non si preoccupa dei thread ok quindi sostanzialmente la lista si dice che la linked list in particolare ma in realtà anche la array list non è in questo caso si dice thread safe ok vuol dire vuol dire non è sicuro andare a utilizzare una lista la linked list ma la array list in realtà ha gli stessi problemi quando ho più thread da da gestire perché? perché per l'appunto l'operazione di add non è atomica e quindi posso avere un risultato come questo e vi faccio notare che a questo punto se io vado a rieseguire la mia il mio programma ah si ho aggiunto un commento salvo un altro esito possibile è on null pointer exception perché a un certo punto due thread si sono ritrovati contemporaneamente dentro uno ha modificato quello che stava facendo l'altro quindi ci siamo ritrovati con null pointer exception o eseguendolo un'altra volta dimensione della lista 300 quindi sono riuscito a creare la lista però a un certo punto quando vado a scorerla mi salta fuori un null pointer exception perché probabilmente negli elementi linkati dalla lista da qualche parte c'era un null che non è stato corretto oppure è stato sovrascritto da qualcun altro quindi vedete che primo caso ho avuto un errore nel numero finale però la lista ce l'avevo secondo caso ho avuto un null pointer exception già prima durante il riempimento terzo caso ho avuto un null pointer exception dopo che ho stampato il numero di elementi nella lista che comunque era sbagliato ma nel momento in cui vado a fare la scansione per cui oltre a generare dei problemi i thread mi danno degli errori che non sono riproducibili ok nei vostri test nei test che noi vediamo e che voi eseguite normalmente se eseguite il test una volta due volte cento volte normalmente ottenete esattamente sempre lo stesso risultato ok perché il codice è quello il test fa la stessa operazione quindi se ripetete il test ottenete esattamente la stessa operazione se andate a utilizzare il debugger per fare passo passo rieseguite esattamente le stesse operazioni nello stesso ordine quando avete il thread le istruzioni di due thread diversi vengono eseguite in ordini che non sono sempre gli stessi per cui abbiamo dei risultati che sono potenzialmente diversi di nuovo abbiamo la nostra lista che però ha solo 200 elementi per cui attenzione quando avete dei thread che operano sullo stesso elemento quindi prima che avevo i contatori che andavano ognuno per conto suo non era un problema adesso che tutti operano su questo oggetto l inizio ad avere dei problemi come faccio? in realtà dentro collections c'è un metodo che si chiama synchronized list a cui posso passare un oggetto di tipo lista scusate mi restituisce un oggetto list quindi qui devo mettere list che vado a importare ok ho dovuto cambiare il tipo di L perché synchronized list mi restituisce list e non list o linked list quindi che cosa fa synchronized list va a creare sostanzialmente un oggetto che incapsula una lista che semplicemente rinvia tutti i metodi definiti dall'interfaccia lista sull'oggetto linked list ma tutti i metodi di questo oggetto che incapsula la lista sono sincronizzati risultato i problemi di prima a questo punto scompaiono 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 fino a un certo punto perché allora non abbiamo più il null pointer però abbiamo un numero di scusatemi sul numero il problema è che quando vado a stampare la lista non è detto che i thread abbiano terminato quindi quello che posso fare qua è fare un uno shutdown ok lo shutdown termina i thread quindi aspetta e poi faccio e punto e wait termination possiamo fare uno allora shutdown che cosa fa termina il mio allora ve lo scrivo qua termina il servizio di esecuzione non appena i task sono terminati questo qua si blocca e aspetta che il servizio sia terminato a questo punto la dimensione effettivamente è 400 nel senso che aspetto che abbiamo tutto finito e poi allora domanda la non allora l'esempio l'abbiamo visto prima quello che succede se io vado a vedere l.ad che scusatemi qua allora no qui il codice no volevo farvi vedere il codice della linked list in realtà vado a dichiararlo qua una variabile linked list di integer esempio uguale new linked list e poi faccio esempio punto add di uno allora se vado a vedere questo codice questo mi chiama un metodo che si chiama link last allora questo è il codice che viene eseguito nella linked list quindi che cosa faccio ho l che è uguale a last ovvero l'ultimo puntatore poi creo un nuovo nodo last uguale a nuovo nodo e poi aggiorno i puntatori al primo all'ultimo nodo e aggiorno le dimensioni è chiaro che se un thread si memorizza last crea un nuovo nodo e nel frattempo un altro thread fa la stessa cosa last uguale a new node viene fatto da due thread contemporaneamente ok e quindi il risultato è che last sarà uguale o a uno o all'altro e quindi di fatto ho una sola dei due inserimenti questo è un esempio tipico in cui ho due thread e uno che va a interferire con l'altro ok giusto per darvi un esempio vedete che qui ho stessa operazione per il first e per il next l.next potrei farlo puntare a new node che è quello che ho appena creato e questo funziona il punto è che non è detto che il nodo sia quello che è stato inserito ok poi è ovvio che qui ci si può sbizzarire su quelli che sono i possibili diversi scenari di quello che succede ok io a questo punto vi ho detto le cose principali riguardanti i thread abbiamo visto sostanzialmente la classe thread che è quella di base abbiamo visto gli esecutori e quindi sono quelli che normalmente vengono utilizzati quando abbiamo la necessità di far partire una serie di attività in parallelo è ovvio che se io ho un unico thread da creare un'unica volta faccio prima scrivere la classe utilizzare direttamente la classe thread se però mi capita molto spesso di avere dei thread che io voglio lanciare in parallelo allora l'uso degli esecutor service è sicuramente raccomandabile anche perché mi nasconde tutti gli aspetti ed è più economico in termini di riuso dei thread quindi non devo crearne uno ogni volta ma ci penso a crearli se necessario e abbiamo visto che nel momento in cui più thread fanno riferimento allo stesso oggetto è possibile che le operazioni che vengono fatte su quell'oggetto siano problematiche e anche quando non sono problematiche come nel caso del conto se non vado a rendere atomica una certa operazione il risultato è sostanzialmente impredicibile quello che abbiamo visto prima nel caso del conto in pratica viene spesso chiamata ma anche nel caso della nostra della nostra lista si chiama race condition ovvero siamo nelle condizioni in cui il fatto che un un thread corra più velocemente o meno velocemente in certi momenti di un altro può portarmi a risultati diversi la risposta che normalmente viene data a questo problema è quello di andare a sincronizzare dei blocchi di codice in modo che al loro interno possa essere eseguito un solo thread per volta e quindi non ci sia la gara tra un thread e l'altro a chi arriva prima a un certo punto e quindi l'ordine di quelle operazioni che stanno all'interno di un metodo sincronizzato sono esattamente sempre le stesse ripeto non dovrete andare a scrivere thread e andare a sincronizzare metodi almeno non per questo corso ma è importante e che sappiate il tutto come funziona ok poi non entro più nel dettaglio vi pubblico poi una lezione con qualche dettaglio in più sullo stato dei thread e su oggetti di sincronizzazione un po' più complessi si parla di monitor di semafori che gestiscono questo tipo di sincronizzazione però diciamo che la parte fondamentale che dovreste sapere è quella che abbiamo detto oggi domanda l'implementazione è fatta attraverso semafori in realtà l'implementazione della sincronizzazione non è fatta tramite semafori ma tramite degli oggetti che si chiamano monitor che sono dei parenti dei semafori però di nuovo non entro nel dettaglio perché diciamo le sincronizzazioni e gli oggetti di sincronizzazione probabilmente li vedrete per chi lo farà in un corso di sistemi operativi a questo punto se non ci sono domande specifiche su questo chiuderei la lezione di oggi benissimo vi pubblico poi una lezione un po' più completa con alcuni aspetti aggiuntivi relativi ai trade ma di nuovo sono aspetti in più l'importante è che sappiate quello che vi ho raccontato oggi che sappiate bene che sono dei problemi significativi che dobbiamo risolvere in qualche modo e qual è lo scopo dei trade quando parleremo tra qualche lezione di interfacce grafiche vedrete un esempio tipico di uso dei trade che dobbiamo risolvere che dobbiamo risolvere